Penso che in un momento come questo abbiamo bisogno di ritrovare le cose vere, genuine, di rimettere un po' l'uomo al centro dell'universo. Un po' se vuoi come una sorta di nuovo rinascimento, direi. Comunque siamo in un posto magico. Via dell'acqua. Lo sai perché si chiama così? Perché anticamente c'era un pozzo. È da quello che deriva il nome. Qui siamo all'acqua al 2, un ristorante per i fiorentini che però sa accogliere anche i turisti e ne rimangono tutti affascinati. Ha anche un gemello a Washington. Ci sediamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.